Anche per le gambe, come abbiamo visto per il petto, per il dorso e per le spalle, quello che vi consiglio sono allenamenti ed esercizi eseguiti con il vostro corpo, con l'utilizzo di bilancieri e con manubri. Lasciate stare tutte le macchine, tipo leg press, leg extension, gluteus machine, perché non vi faranno ottenere i risultati che desiderate. Non rispettano le vostre articolazioni e vi obbligano a movimenti guidati. Lasciate stare anche la smith machine o il multi power per fare squat o stacchi. Questo attrezzo guidato può essere fatale per la vostra schiena e per le vostre ginocchia. Il corpo nasce muovendosi liberamente. Non ha senso obbligarlo a movimenti guidati e che non rispettino la biomeccanica del vostro corpo. Grazie.